Come Brigata Franca Arame abbiamo aperto una raccolta fondi per distribuire aiuti alimentari alle famiglie bisognose. In questa città c'è un'economia sommersa di persone che vivono senza niente, senza tutele e che non hanno più cibo. Se puoi aiutaci e donati. Per molti i soldi sono già finiti. Abbiamo bisogno del contributo di tutti, soprattutto di chi più ne ha disponibilità.